Conservare la cultura e metterla a disposizione di tutti. Le biblioteche esistono per questo e il progetto di digitalizzazione di più di 3.000 tra manoscritti greci ed ebraici e antichi volumi a stampa della Biblioteca Apostolica Vaticana e delle Bodleian Libraries di Oxford sfrutta le nuove tecnologie per arrivare allo stesso scopo. Dall'inizio di dicembre sono già in rete sul sito creato dalle due storiche biblioteche alcune delle Bibbie a stampa più antiche come quella di Gutenberg e manoscritti greci come questa Bibbia del X secolo finemente miniata, insieme ad interviste ai protagonisti di questo progetto, finanziato dalla Fondazione Polonsky. Ecco il primate anglicano, l'arcivesco Welby, il bibliotecario vaticano, l'arcivesco Bruguet, il finanziatore Polonsky e il prefetto della Vaticana Pasini. La semplice possibilità di vedere questi antichi testi rappresenta qualcosa che parla allo spirito, che ispira la devozione. Il fatto di poter avere accesso a queste collezioni digitalizzate consentirà di renderle fruibili ad un pubblico di studiosi più vasto rispetto al passato e ne risulterà pertanto una loro maggiore rilevanza internazionale. Credo che i tipografi del passato penserebbero certamente che la scannerizzazione sia una grande conquista, il loro deve essere stato veramente un lavoro titanico. I protestanti hanno avuto questo colpo di genio di usare una nuova tecnica, quella della stampa, per far conoscere la Bibbia. Qual è stata la risposta dei cattolici? È stata quella del Rinascimento. Un Papa, Sisto V, ha proclamato, esistono molti libri e vogliamo che tutti siano riuniti in questa biblioteca. Oggi siamo lieti di vedere come due istituzioni ugualmente prestigiose, cattolica e protestante, mettano insieme i loro sforzi sia per meglio conoscere la Bibbia che per proteggerla e diffonderla. Quando ero ad Oxford c'era molto materiale immediatamente disponibile alla consultazione, che probabilmente non avrebbe dovuto essere tanto liberamente accessibile. Il fatto che io sia stato in grado di mettere le mie giovani mani sui manoscritti dei primi del XVII secolo era elettrizzante, ma penso che avrebbe potuto essere piuttosto pericoloso. Io li maneggiavo molto cautamente e ritengo che la maggior parte delle persone lo facesse, ma esiste una piccola percentuale di gente che non sa cosa voglia dire avere grande cura. È troppo pericoloso avere esemplari unici di una qualunque cosa soltanto in un posto. È estremamente rischioso. La digitalizzazione ci consente di mettere al sicuro tutto questo materiale, rendendolo nel contempo ampiamente disponibile. Si tratta di una opportunità irresistibile. Come nella ricerca, tu non puoi arrivare a un frutto se altri non hanno ricercato e la tua ricerca si innesta in quella di un altro e un altro ancora andrà avanti. Così anche in questa digitalizzazione fatta con altri, lo stesso spirito l'abbiamo trovato nel dare ciascuno il suo apporto. In cinque anni verranno digitalizzate e pubblicate sul web un milione e mezzo di pagine, due terzi delle quali da volumi della Biblioteca Vaticana, scelti da accademici di tutto il mondo tra gli 80.000 manoscritti e gli 8.900 incunaboli custoditi nella città del Papa. Ecco le opinioni di ricercatori ed esperti che descrivono anche alcune opere inserite nel progetto. Ritengo che attualmente sia più importante consentire agli studiosi l'accesso ai manoscritti che non sono stati studiati così approfonditamente o in alcuni casi che non sono stati studiati affatto. Questi sono quelli che costituiranno il grosso del progetto. Oggi con la tecnologia si ritorna indietro alla cultura del manoscritto in cui esso è un oggetto di uso comune perché se ora prendo un libro stampato della Biblioteca Botley e ne annoto i margini non andrà bene, ma nel Medioevo questo si poteva fare perché vi si aggiungeva valore. I lettori successivi ne ricavavano elementi e lo rifacevano. Vi era un dialogo di annotazioni. Ora la tecnologia ci offre possibilità di scavare come nella realtà medievale, di lasciare insieme note a margine dei testi, di lavorare insieme e anche di rompere la sequenza narrativa della stampa. Questo è un tipico manoscritto di studio di testi greci del XIV secolo che contiene opere di Euripide, Sofocle e Eschilo e anche alcune di Esiodo. Come si nota il testo poetico si trova nella parte centrale e i margini sono pieni di scolia, ovvero di commenti sul testo. Ritengo che per manoscritti di questo tipo questo progetto sarà una vera manna. Infatti per leggere scritti molto piccoli e complessi come questi è forse meglio guardare una riproduzione online piuttosto che consultare il testo in biblioteca con l'aiuto di una lente di ingrandimento che talvolta non è sufficiente. Vorrei concentrarmi sulla copia di Francis Dauss dell'edizione del 1490 della Bibbia Malerbi, stampata a Venezia da Luca Antonio Giunta, membro della famosa famiglia di stampatori e editori Veneziani. Si tratta di una Bibbia in italiano destinata dal traduttore Niccolò Malerbi ad un uso da parte di persone, uomini e donne, giovani e adulti che non conoscevano il latino. Vediamo qui il frontespizio che precede il libro della Genesi con sei immagini della creazione inserite in una bellissima incisione architettonica, descritta come una delle pietre miliari del design delle incisioni dei primi libri. Grazie a tutti.